L'intervento di Feder Consumatori Sicilia sulla precarietà e pericolosità della rete ferroviaria nell'isola, tra binario unico, mezzi vetusti e lavori in corso. Gero Miciche. Poco dopo i funerali delle vittime del disastro ferroviario tra Andria, Corato e in Puglia, Feder Consumatori Sicilia ritiene opportuno sollevare il dibattito sulle condizioni di grave precarietà e pericolosità in cui versa la rete ferroviaria siciliana. Il presidente dell'Associazione a difesa dei consumatori Alfio Larosa premette che si è preferito tacere fino allo svolgimento dei funerali come testimonianza di rispetto verso le vittime e i loro familiari. Poi Feder Consumatori denuncia la situazione della rete ferroviaria in Sicilia è disarmante e in molti tratti pericolosissima. Tra ponti crollati, smottamenti ma anche tratte ammodernate e non ancora riaperte, circa 300 dei 1379 chilometri e l'intera rete sono interrotti, quindi oltre il 20%. La rete delle ferrovie siciliane continua a essere prevalentemente a binario unico, infatti solo poco più del 13% e corrisponde a 190 chilometri della rete ferroviaria è il doppio binario. Inoltre, come se non bastasse, 578 chilometri sono su linee non elettrificate, producendo più lentezza e meno sicurezza. Il materiale rotabile è tra i più vetusti del paese e i treni in servizio sono tra i più vecchi per età media. Feder Consumatori Sicilia sottolinea che non intende praticare allarmismi o speculare sulle disgrazie e poi ancora punta il dito contro i ritardi nelle opere di recupero e di ammodernamento. E lo stesso Larosa cita degli esempi. Il ponte di Contradange, di territorio di Niscemi, lungo la Caltagirone e Gela, è crollato nel maggio 2011 e ancora annunziano notizie da rete ferroviaria italiana sul ripristino. E così è anche dal 2013 sul tragitto Alcamo-Trapani. Poi un paradosso, la linea Canicattigia e Lacomiso è chiusa nonostante siano stati già conclusi i lavori di ammodernamento. Ed è un tracciato strategico perché attraversa la Sicilia sudorientale, collegando le province di Egrigento, Caltanissette e Ragusa. Sono stati già spesi per i lavori 35 milioni di euro per una linea che doveva rientrare in esercizio a fine 2015. E ciò di conseguenza impedisce l'attivazione dei treni regionali veloci Ragusa-Palermo via Caltanissetta. Al momento, tra Ragusa e Caltanissette, il servizio è assicurato con pullman sostitutivi. Chiediamo, conclude Feder Consumatori, un gesto di responsabilità a rete ferroviaria italiana, regione siciliana e Ministero dei Trasporti, perché nel migliore dei casi è alto il disagio per gli utenti e nel peggiore è altissimo il rischio di incidenti.